Immagine speculare Le tre leggi della robotica 1. A un robot non è permesso recare danno a un essere umano, né, attraverso l'inazione, lasciare che un essere umano subisca danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini che gli vengono dati dagli esseri umani, a meno che tali ordini non siano in conflitto con la prima legge. 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, a meno che tale protezione non entri in conflitto con la prima e la seconda legge. Lee Bailey aveva appena deciso di riaccendere la pipa. Quando la porta del suo studio si aprì, senza che fosse stata bussata o senza alcun annuncio preliminare di alcun genere. Bali guardò in su, visibilmente seccato, poi lasciò cadere la pipa. Il fatto che la lasciasse là dove era caduta dice molto sul suo stato d'animo in quel momento. «R. Daniel Olivao», mormorò, in una sorta di eccitazione mista a perplessità, «per Giosafatte, sei proprio tu, vero?» «Sei perfettamente nel vero», disse l'alto e bronzio visitatore, senza che le sue regolari fattezze perdessero, sia pure per un attimo, la loro calma abituale. «Deploro di averti sorpreso, entrando senza avvertire, ma la situazione è piuttosto delicata, ed è bene che, perfino qui, uomini e robot vi rimangano immischiati il meno possibile. In ogni modo, sono felice di vederti, amico Elia». E il robot porse la destra in un gesto che sembrava perfettamente umano, proprio com'era umano il suo aspetto. Bale, invece, talmente disumanizzato dal proprio stupore, fissò per qualche istante quella mano, senza capire, ma poi l'afferrò con entrambe le sue, sentendone la calda consistenza. «Ma come mai, Daniel? Tu sei il benvenuto in qualsiasi momento, ma qual è la situazione tanto delicata? Siamo di nuovo nei guai? La Terra, voglio dire? No, amico Elia, non riguarda la Terra. La situazione che io definisco delicata è in apparenza una piccola cosa, una disputa tra matematici, niente di più, e poiché per puro caso ci trovavamo a un facile balzo della Terra, questa disputa ha avuto luogo su una nave stellare, allora? Sì, è esatto, una piccola disputa, e tuttavia sorprendentemente grossa per gli umani che vi sono implicati. «Bali non poteva fare a meno di sorridere. Non mi sorprende che gli umani ti lasciano trasecolato, loro non obbediscono alle tre leggi. Il che, senza dubbio, è un inconveniente», disse R. Daniel in tono severo. «E credo che gli umani stessi rimangano perplessi di fronte ad altri umani. Può darsi che tu sia meno perplesso di quanto lo sono gli uomini sugli altri mondi, perché qui sulla Terra vivono molti più esseri umani che non sui mondi dello spazio. Se è così, e credo sia così, tu puoi aiutarci». R. Daniel fece una momentanea pausa e poi disse, forse un'ombra troppo in fretta, «E tuttavia ci sono regole del comportamento umano che io ho imparato. Sembrerebbe, per esempio, che io abbia mancato in fatto di etichetta, secondo i criteri umani, non avendoti domandato notizie di tua moglie e del tuo figliolo. «Stanno benissimo. Il ragazzo studia e Jesse fa politica nell'amministrazione locale. E ora che abbiamo sbrigato i convenevoli, spiegami come mai sei capitato qui». «Come dicevo, eravamo a un semplice balzo dalla terra», disse R. Daniel. «Così ho suggerito al capitano di consultare te». «E il capitano ha consentito?» Balei ebbe la fuggevole visione di un orgoglioso e autocratico capitano di nave stellare e spaziera che acconsentiva a compiere un atterraggio sulla terra, tra tanti mondi, e a consultare, tra tanti esseri, proprio un terrestre. «Sono convinto», disse R. Daniel, «che nella posizione in cui si trovava avrebbe acconsentito a qualsiasi cosa. In aggiunta, ho tessuto le tue lodi, anche se, per essere sincero, ho affermato soltanto la verità. Infine, ho promesso di condurre io tutti i negoziati, così che nessuno dell'equipaggio o dei passeggeri avesse bisogno di mettere piede in alcuna città terrestre. Né di rivolgere la parola a un terrestre, certo. Ma che cos'era successo? Tra i passeggeri della nave stellare Eta Carina, ci sono due matematici che stanno viaggiando verso Aurora per partecipare a una conferenza interstellare di neurobiofisica. È tra quei due matematici, Alfred Barr Humboldt e Gennao Sabbat, che ha avuto origine la disputa. Tu, amico Elia, li hai per caso sentiti nominare, l'uno o l'altro, o entrambi? Nessuno dei due, dichiarò deciso Balei. Non so niente di matematica. Senti, Daniel, spero che non avrai lasciato credere a qualcuno che io sia un cultore della matematica o... Niente affatto, amico Elia. So bene che non lo sei. Ne ha importanza, dato che l'esatta natura del problema matematico alla base della questione non è affatto rilevante ai fini della controversia in atto. Bene. Quando è così, sentiamo. Dato che tu non conosci nell'uno o nell'altro, amico Elia, lascia che ti dica che il dottor Humboldt è già sul finire del suo ventisettesimo decennio. Hai detto qualcosa, amico Elia? Niente, niente. rispose Bale con fare irritato. Si era limitato a borbotare tra sé in modo più o meno incoerente per una naturale reazione all'estesissimo arco di vita degli spazieri. Ed è ancora attivo, nonostante l'età. Sulla Terra, dopo una trentina d'anni di professione o giù di lì, i matematici... Daniel assicurò calmo calmo il dottor Humboldt è uno dei tre matematici di punta della galassia per antica reputazione. certo che è ancora attivo. Il dottor Sabbat, ad altra parte, è giovanissimo, non ancora cinquantenne, ma si è già affermato come il nuovo talento più rimarchevole nei più astrusi rami della matematica. Sono grandi entrambi, allora, disse Balei. Si ricordò della pipa e le raccolse. Si disse che non c'era scopo ad accenderla per il momento e si limitò a vuotarla. Di che si tratta? È forse un caso d'omicidio? Uno dei due ha per caso ucciso l'altro? Di questi due uomini di grande reputazione, uno sta cercando di distruggere l'altro. Stando ai valori umani, ritengo che questo possa essere considerato ancora più grave dell'uccisione materiale. Qualche volta, sì, forse. Quale dei due sta cercando di distruggere l'altro? Questo, amico Elia, è precisamente il fulcro della conversazione. Quale? Continua, allora. Il dottor Humboldt racconta la storia in maniera chiara. Poco prima di salire a bordo della nave stellare, aveva concepito un possibile metodo per analizzare le vie nervose mediante i mutamenti negli spettri di assorbimento di microonde delle aree corticali locali. L'intuizione era una tecnica squisitamente matematica di straordinaria sottigliezza, ma io non posso naturalmente né comprendere né trasmettere in modo sensato i particolari, i quali tuttavia non hanno importanza. Il dottor Humboldt meditò sulla questione e andò via via convincendosi di avere sotto mano qualcosa di rivoluzionario, qualcosa che avrebbe di gran lunga sorpassato tutti i risultati da lui precedentemente conseguiti in matematica. Poi scoprì che a bordo c'era il dottor Sabbat. Ah, e volle sentire che cosa ne pensava il giovane Sabbat. Precisamente. I due si erano già conosciuti in ambienti professionali e ciascuno era perfettamente edotto della reputazione dell'altro. Con Sabbat, Humboldt si addentrò in grandi particolari. Sabbat confermò in tutto e per tutto l'analisi di Humboldt e lodò senza riserve l'importanza della scoperta e il lacume dello scopritore. Humboldt, rincuorato e rassicurato, preparò un articolo delineando per sommi capi la sua idea e due giorni più tardi si accinse a farlo trasmettere per via subeterica ai co-presidenti della conferenza di Aurora al fine di poter ufficialmente stabilire la sua priorità e prendere accordi per una possibile discussione prima che la conferenza si concludesse. Con sua sorpresa scoprì che Sabbat aveva pronto un suo articolo essenzialmente identico a quello di Humboldt e che a sua volta si preparava a farlo spedire per la stessa via su Aurora. Immagino che Humboldt sia andato su tutte le furie e come? E Sabbat come si giustificava? Esattamente nello stesso modo di Humboldt parola per parola. Allora qual è il problema? Parola per parola salvo lo scambio dei nomi l'uno è l'immagine speculare dell'altro secondo Sabbat era lui quello che aveva avuto l'intuizione lui quello che aveva consultato Humboldt ed era Humboldt quello che aveva approvato l'analisi e l'aveva lodata. In conclusione ciascuno afferma che l'idea è sua e che l'altro gliel'ha rubata a me non sembra affatto un problema trattandosi di cose di scienza direi che sarebbe sufficiente farsi mostrare gli appunti della ricerca con tanto di date e di iniziali per dare un giudizio sulla priorità basta partire da lì anche se uno dei due avesse preparato appunti falsi lo si accerterebbe facilmente dal contenuto interno. In circostanze normali amico Elia avresti ragione ma questa è matematica non una scienza sperimentale. Il dottor Humboldt afferma di aver elaborato i dati essenziali mentalmente niente era stato messo per iscritto prima della stesura del saggio da spedire il dottor Sabbat naturalmente dice in tutto e per tutto la stessa cosa bene quando è così non c'è che essere più drastici e tagliare la testa al toro sottomettere tanto l'uno che l'altro a una sonda psichica e scoprire chi dei due mente. R. Daniel scuoteva lentamente la testa amico Elia tu non capisci quegli uomini sono entrambi accademici di grido soci dell'accademia imperiale come tali non possono essere assoggettati a un processo sulla loro condotta professionale se non da parte di una giuria di loro pari pari dal punto di vista professionale appunto a meno che non rinuncino personalmente e volontariamente a quel diritto lasciate decidere a loro allora il colpevole non rinuncerà al suo diritto perché non può permettersi di affrontare la sonda psichica l'innocente vi rinuncerà subito non sarà neppure necessario usarla la sonda le cose non vanno così amico Elia in un caso del genere rinunciare al diritto accettare un'indagine da parte di profani è un serio e forse irreparabile colpo al prestigio entrambi i matematici rifiutano di rinunciare al loro diritto a un processo speciale proprio per una questione di orgoglio il problema della colpa o dell'innocenza è del tutto sussidiario quando è così per adesso lasciate perdere tenete la faccenda in sospeso fino a che non arriverete su Aurora alla conferenza di neurobiofisica di pari loro ce ne saranno a bizzeffe e allora ma questo vorrebbe dire un colpo tremendo per la scienza stessa amico Elia entrambi i matematici soffrirebbero per essere stati al centro di uno scandalo perfino l'innocente sarebbe biasimato per essere stato coinvolto in una situazione così sgradevole rimarrebbe in tutti un senso di riprovazione perché una cosa così va sistemata in sordina a qualsiasi costo ma senza arrivare in tribunale d'accordo non sono uno spaziere ma mi sforzerò di pensare che tale atteggiamento abbia una sua logica i due scienziati in questione che cosa dicono Humboldt è perfettamente d'accordo dice che se Sabbat confesserà il furto dell'idea e gli permetterà di procedere alla trasmissione del testo o almeno alla presentazione del testo alla conferenza ritirerà ogni accusa il misfatto di Sabbat rimarrà un suo segreto e naturalmente un segreto del capitano che è il solo altro essere umano a parte della disputa mentre il giovane Sabbat non è d'accordo al contrario conviene con Humboldt su tutto fino all'ultimo particolare salvo il capovolgimento dei nomi sempre l'immagine speculare così se ne stanno là a fronteggiarsi praticamente in stallo ritengo che ognuno dei due amico Elia stia aspettando che l'altro ceda e si dichiari colpevole beh allora aspettate il capitano dice di no che non si può aspettare vedi se si aspetta possono accadere due cose la prima è che continuino entrambi a ostinarsi per cui quando la nave atterrerà su Aurora lo scandalo scopierà il capitano che è responsabile della giustizia a bordo farà una figuraccia per non essere stato in grado di sistemare la faccenda insordina e questo pensiero si sa gli è insopportabile e la seconda è che l'uno o l'altro dei matematici finirà effettivamente per confessare il suo torto ma quello che confesserà lo farà perché è veramente colpevole o solo per il nobile desiderio di evitare lo scandalo sarebbe giusto privare del credito chi ha tanto senso etico da preferire di perdere quel credito piuttosto che veder soffrire la scienza nel suo insieme o altrimenti il colpevole potrebbe confessare all'ultimo momento e in modo tale da far apparire che lo fa soltanto per amore della scienza sottraendosi così alla vergogna del misfatto compiuto e gettandone l'ombra sull'altro il capitano sarà l'unico a sapere tutto questo ma non desidera passare il resto della sua vita a domandarsi se non si è per caso prestato a un grottesco aborto di giustizia Balei sospirò insomma una sfida tra intellettuali chi mollerà per primo mentre Aurora si fa sempre più vicina ora la storia è completa Daniel? non proprio c'erano dei testimoni alla transazione per giosa fatte perché non me l'hai detto subito quali testimoni? il domestico personale del dottor Humboldt un robot immagino sì certo si chiama R. Preston quel domestico era presente durante la conferenza iniziale e conferma la versione del dottor Humboldt in tutti i particolari cioè dice che l'idea era stata del dottor Humboldt che il dottor Humboldt l'aveva illustrata nei particolari al dottor Sabbat che il dottor Sabbat l'aveva lodata e via discorrendo sì capisco e questo sistema la faccenda oppure no presumibilmente no proprio così non la sistema affatto perché c'è un secondo testimone anche il dottor Sabbat ha un domestico personale R. Idda un altro robot che vedi caso è dello stesso modello di R. Preston costruito credo nello stesso anno e nella stessa fabbrica entrambi hanno la stessa anzianità di servizio strana coincidenza stranissima ma un fatto che purtroppo rende difficile arrivare a un giudizio basato sulle differenze evidenti tra i due domestici R. Idda allora racconta la stessa storia che racconta R. Preston esattamente la stessa salvo l'inversione speculare dei nomi R. Idda dichiara perciò che il giovane Sabbat quello non ancora cinquantenne Lee Bali non riusciva a escludere dal suo tono una nota ironica lui stesso non aveva ancora cinquant'anni e si sentiva tutt'altro che giovane aveva avuto l'idea iniziale che illustrò particolareggiatamente a Humboldt il quale espresse le sue lodi e così via sì amico Elia è uno dei robot mente allora così sembrerebbe dovrebbe essere facile capire quale immagino che perfino un esame superficiale fatto da un buon roboticista un roboticista non è sufficiente in questo caso amico Elia soltanto un robot psicologo qualificato avrebbe sufficiente autorità e sufficiente esperienza da prendere una decisione in un caso di tanta importanza e noi non ne abbiamo uno con tali qualifiche a bordo della nave un esame del genere potrà essere eseguito soltanto quando arriveremo su Aurora e a questo punto la gatta sarebbe fuori dal sacco bene ora sei qui sulla terra possiamo scovare un robot psicologo e stai tranquillo che niente di quello che accade sulla terra arriverà mai alle orecchie di Aurora per cui non ci sarà scandalo salvo che né il dottor Humboldt né il dottor Sabbat permetterebbero a un robot psicologo terrestre di esaminare il loro domestico il terrestre dovrebbe senza battere ciglio Valei concluse la frase dovrebbe toccare il robot sono vecchi domestici quelli godono di considerazione e perciò non debbono essere insozzati dalle mani di un terrestre e allora che cosa vuoi che faccia maledizione Valei tacque fece una smorfia scusa sai R. Daniel ma non vedo per quale ragione hai messo in mezzo me mi trovavo sulla nave per una missione che non ha niente a che vedere con il problema di cui ci occupiamo il capitano si è rivolto a me perché doveva pure sfogarsi con qualcuno io gli sembravo abbastanza umano da poterlo capire e abbastanza robot per essere un ricettacolo sicuro delle sue confidenze mi raccontò tutta la storia e mi demandò che cosa avrei fatto a suo posto io sapevo bene che il balzo successivo poteva portarci facilmente sulla terra piuttosto che sul nostro vero obiettivo così dissi al capitano che per conto mio ero in imbarazzo quanto lui di fronte al problema dell'immagine vera e dell'immagine riflessa ma che sulla terra c'era qualcuno che poteva aiutarlo fergiosa fatte mormorò Valei fra i denti considera amico Elia che se riesci a risolvere questo mistero la tua carriera ne guadagnerà e la terra stessa potrebbe trarne vantaggi alla cosa non si potrebbe dare nessuna pubblicità ben inteso ma il capitano gode di un certo ascendente nel suo mondo e si mostrerebbe grato mi stai mettendo in imbarazzo più che mai nutro certezza disse R. Daniel imperturbabile che tu hai già qualche idea sul procedimento che bisognerebbe seguire dici? mi sembra che il procedimento più ovvio sarebbe di parlare con i due matematici uno dei quali a quanto pare è un ladro temo amico Elia che nessuno dei due vorrà venire in città né alcuno dei due sarebbe disposto a permetterti di andare da lui e non c'è modo di costringere uno spaziere ad avere contatti con un terrestre per quanto possa trattarsi di un caso d'emergenza sì questo lo so anch'io Daniel ma stavo pensando a un colloquio per televisione a circuito chiuso niente da fare non si sottometterebbero mai all'interrogatorio di un terrestre e allora che cosa vogliono che faccia potrei parlare ai robot neppure ai robot permetterebbero di venire qui per Giosafatte e Daniel tu sei pur venuto è stata una mia decisione ho il permesso finché sono a bordo di prendere decisioni di quel genere senza che alcun essere umano salvo il capitano in persona possa mettere il veto e il capitano era ansioso che io ti parlassi conoscendoti mi sono detto che un contatto per televisione era insufficiente desideravo stringerti la mano lì Bali si rabbonì io te ne sono grato Daniel ma ugualmente ti confesso che non so cosa darei perché ti fossi astenuto dal pensare a me per un caso simile posso parlare con i robot per televisione almeno questo è possibile beh è già qualcosa significa che dovrò fare il lavoro di un robot psicologo sia pure in modo rudimentale ma tu sei un investigatore amico Elia non un robot psicologo beh lasciamo perdere ora prima che li veda vediamo di riflettere un po' dimmi è possibile che entrambi i robot dicano la verità forse la conversazione tra i due matematici era equivoca forse era di natura tale che ciascun robot poteva onestamente ritenere il proprio padrone l'autentico proprietario dell'idea o forse un robot ha sentito una parte della conversazione e l'altro un'altra parte così che entrambi potrebbero considerare il rispettivo padrone come il vero proprietario dell'idea è assolutamente impossibile amico Elia entrambi i robot ripetono la conversazione in maniera identica e le due ripetizioni sono fondamentalmente incompatibili allora è assolutamente certo che uno dei robot mente? sì potrò qualora lo volessi vedere la trascrizione di tutte le testimonianze lasciate in presenza del capitano? ho pensato che me l'avresti chiesto e ho portato le copie con me bravissimo sono stati controinterrogati i robot e se sì il controinterrogatorio è incluso nella trascrizione i robot si sono limitati a ripetere le rispettive versioni il controinterrogatorio potrebbe essere condotto soltanto da un robot psicologo oppure da me tu sei un investigatore amico Elia non un va bene R. Daniel tenterò di venire al capo della psicologia spaziera un investigatore può farlo perché non è un robot psicologo continuiamo a riflettere in genere un robot non mente ma lo fa se necessario per rispettare le tre leggi potrebbe mentire per proteggere in maniera legittima la propria esistenza e questo in ossequio alla terza legge è più facile che menta se necessario per rispetto di un legittimo ordine datogli da un essere umano in ossequio alla seconda legge soprattutto è probabile che menta se necessario per salvare una vita umana o per impedire che un umano riporti un danno questo in ossequio alla prima legge sì nel caso presente ciascun robot starebbe difendendo la reputazione professionale del suo padrone e se fosse necessario mentirebbe per farlo date le circostanze la reputazione professionale sarebbe quasi l'equivalente della vita e potrebbe esserci un impulso irresistibile di mentire suggerito dalla prima legge tuttavia amico Elia ciascun domestico mentendo danneggerebbe la reputazione professionale del padrone dell'altro eh sì ma ciascun robot potrebbe avere una concezione più chiara del valore della reputazione del proprio padrone e in buona fede giudicarla più grande di quella del padrone dell'altro ossia sarebbe convinto di fare minor male col dire una bugia che col dire la verità lì Bali rimase per un momento in silenzio poi disse bene accordati pure per farmi parlare con uno dei robot cominceremo da R. Ida il robot del dottor Sabbat sì rispose Bailey in tono asciutto il robot del giovincello mi ci vorranno alcuni minuti disse R. Daniel ho una micro ricevente corredata di proiettore non mi serve altro che una parete bianca e penso che questa possa andar bene se mi autorizzi a spostare questi armadietti prego dovrò parlare in un microfono no amico Elia potrai parlare così normalmente e adesso scusami ti farò perdere ancora qualche istante devo mettermi in contatto con la nave prendere accordi perché R. Ida possa essere interrogato se la cosa prenderà tempo Daniel io nel frattempo potrei dare una scorsa alla trascrizione delle testimonianze rese finora lì Bali accese la pipa intanto che R. Daniel sistemava le sue attrezzature poi si mise a scorrere i fogli leggerissimi che gli erano stati consegnati i minuti passarono e R. Daniel disse se sei pronto amico Elia R. Ida è in attesa o preferisci dedicare ancora qualche minuto a quei fogli no no vale il sospirò non mi dicono niente di nuovo mettimi pure in comunicazione e provvedi perché il colloquio sia registrato e trascritto R. Ida irreale nella proiezione bidimensionale sulla parete possedeva una struttura fondamentalmente metallica era del tutto diverso cioè da R. Daniel che faceva parte degli umanoidi aveva un corpo alto ma tozzo e ben poco lo distingueva da tutti gli altri robot che Bali aveva visto salvo qualche particolare strutturale secondario ti saluto R. Ida disse Bali io saluto lei signore disse R. Ida con una voce sommessa che suonava inaspettatamente umanoide sei il cameriere personale di Gennao Sabbat vero? sì signore da quanto tempo figliolo? da 22 anni signore e la reputazione del tuo padrone è preziosa per te? sì signore giudicheresti importante proteggere quella reputazione? sì signore altrettanto importante proteggere la sua reputazione che la sua vita? no signore altrettanto importante che proteggere la reputazione di un altro? R. Ida esitò casi del genere vanno decisi in base al loro merito individuale signore non c'è modo di stabilire una regola generale Bali esitò questi robot spazieri parlavano in modo più fluente e più elevato rispetto ai modelli terrestri non era affatto sicuro di poter dibattere con la sottigliezza del ragionamento se tu ti convincessi domandò che la reputazione del tuo padrone è più importante di quella di un altro umano per esempio di quella di Alfred Bar Humboldt mentiresti per proteggere la reputazione del tuo padrone? mentirei signore hai mentito nella tua testimonianza riguardante il tuo padrone nella sua controversia con il dottor Humboldt? no signore ma se tu avessi mentito negheresti d'averlo fatto allo scopo di proteggere quella bugia vero? sì signore bene allora proviamo a considerare questo disse Balei il tuo padrone Gennao Sabbat è un giovane matematico di grande reputazione ma è giovane se in questa controversia con il dottor Humboldt avesse ceduto alla tentazione e avesse agito in maniera contraria all'etica vedrebbe eclissata per qualche tempo la sua fama ma è giovane e avrebbe tutto il tempo di rifarsi davanti a sé avrebbe ancora molti trionfi intellettuali e alla fine gli altri finirebbero per considerare il suo tentativo di plagio come l'errore di un giovanotto un po' impulsivo e ancora un po' scriteriato insomma la cosa andrebbe a posto da sé col passare del tempo se d'altra parte fosse stato il dottor Humboldt a cedere alla tentazione la faccenda sarebbe molto più grave lui è un uomo d'età la cui fama dura da secoli la sua reputazione fin qui è sempre stata senza macchia tutto questo però sarebbe dimenticato in forza di quell'unico errore commesso a età avanzata ed egli non avrebbe più l'occasione di porvi riparo nel tempo relativamente breve che ancora gli resta potrebbe fare ben poco in questo tempo nel caso di Humboldt gli anni di lavoro sciupati sarebbero tanti di più che nel caso del tuo padrone e molte di meno le occasioni di riguadagnare la posizione perduta lo capisci vero che Humboldt affronta la situazione peggiore e merita perciò maggiore considerazione seguì una lunga pausa poi Erreida disse con voce inalterata la mia testimonianza era falsa il lavoro apparteneva al dottor Humboldt e il mio padrone ha tentato a torto di appropriarsene per merito benissimo figliolo disse Balei hai avuto ordine di non dire niente a nessuno di tutto questo finché non riceverai il permesso dal capitano della nave ora vai pure lo schermo tornò bianco e Balei tirò una boccata dalla pipa credi che il capitano abbia ascoltato Daniel? ne sono sicuro è l'unico testimone a parte noi bene ora sentiamo l'altro ma c'è scopo di ascoltarlo amico Elia visto che Erreida ha confessato sicuro che c'è la confessione di Erreida non vuol dire niente 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 di niente gli ho fatto notare che la posizione di Humboldt era la peggiore naturalmente se mentiva per proteggere Sabbat sarebbe immediatamente passato alla verità come del resto afferma ad avere fatto d'altro canto se stava dicendo la verità si sarebbe orientato sulla bugia per proteggere Humboldt siamo sempre alle prese con l'immagine speculare e non abbiamo fatto neppure un passo ma allora che cosa otterremo interrogando Erre Preston niente se l'immagine speculare fosse perfetta ma non lo è in fin dei conti uno dei robot ha detto effettivamente la verità in partenza mentre l'altro in partenza ha mentito e questo è un punto di asimmetria fammi sentire Erre Preston e se la trascrizione dell'interrogatorio di Erre Hida è pronta fammela avere il proiettore venne rimesso in funzione Erre Preston fissava ora dallo schermo era identico a Erre Hida sotto ogni aspetto salvo una lievissima differenza nella forma del petto ti saluto Erre Preston disse Balei teneva sott'occhio la trascrizione del colloquio con Erre Hida mentre parlava ti saluto signore disse Erre Preston la sua voce era identica a quella di Erre Hida sei il cameriere personale di Alfred Barr Humboldt dico bene? sì signore da quanto tempo figliolo? da 22 anni signore e la reputazione del tuo padrone è preziosa per te? sì signore riterresti importante proteggerla? sì signore importante quanto proteggere la sua vita? no signore importante quanto proteggere la reputazione di un altro essere umano? Erre Preston esitò casi del genere vanno decisi in base al loro merito individuale signore non c'è modo di stabilire una regola generale se tu ti convincessi disse Balei che la reputazione del tuo padrone è più importante di quella di un altro per esempio di quella di Gennao Sabbat mentiresti pur di proteggerla? mentirei signore hai mentito nella tua testimonianza riguardante il tuo padrone nella sua controversia con il dottor Sabbat? no signore ma se tu avessi mentito negheresti di averlo fatto allo scopo di proteggere quella bugia vero? sì signore bene allora prova a considerare quel che ti dico il tuo padrone Alfred Barham è un vecchio matematico di grande fama ma è un vecchio se in questa controversia con il dottor Sabbat avesse ceduto alla tentazione e avesse agito in maniera contraria all'etica vedrebbe eclissata in parte la sua reputazione ma la sua grande età e i suoi secoli di grandi risultati raggiunti farebbero da contrappeso e avrebbero sicuramente la meglio gli altri considererebbero questo suo tentativo di plagio come l'errore di un vecchio forse malato non più lucido nei suoi giudizi se d'altra parte fosse stato il dottor Sabbat a cedere alla tentazione la faccenda sarebbe molto più grave lui è un giovanotto con una reputazione assai meno consolidata in circostanze normali avrebbe secoli davanti a sé nei quali allargare le sue cognizioni e conseguire grandi risultati tutto questo gli sarà negato invece gli sarà precluso da un errore di gioventù lui ha un futuro assai più lungo da perdere rispetto al tuo padrone lo capisci vero che Sabbat affronta la situazione peggiore e merita perciò maggiore considerazione seguì una lunga pausa poi R. Preston disse con voce inalterata la mia testimonianza era quella che io a questo punto si interruppe e non disse più niente ti prego R. Preston continua nessuna risposta R. Daniel interloqui temo amico Elia che R. Preston sia in stasi è fuori servizio bene quando è così abbiamo finalmente ottenuto una simmetria da questo possiamo stabilire chi è il colpevole in che modo amico Elia rifletti supponi d'essere una persona che non ha commesso alcun reato e che il tuo robot personale sia stato testimone delle tue azioni non hai bisogno di far niente il tuo robot dirà la verità e confermerà le tue dichiarazioni se invece tu fossi una persona che ha commesso un reato dovresti fare assegnamento sul tuo robot per mentire la posizione sarebbe un po' più rischiosa in quanto il robot mente se necessario ma è maggiormente inclinato a dire la verità per cui la sua bugia sarebbe meno ferma di quanto lo sarebbe la verità per impedire complicazioni perciò il criminale senza dubbio ordinerebbe al robot di mentire in questo modo la prima legge verrebbe rinforzata dalla seconda legge rinforzata forse in modo molto sostanziale sì mi sembra ragionevole disse R. Daniel supponi di avere un robot di ciascun tipo uno dei due passerebbe dalla verità non rinforzata alla bugia e potrebbe farlo dopo qualche esitazione senza serio danno l'altro passerebbe dalla bugia rinforzata notevolmente alla verità ma potrebbe farlo soltanto a rischio di bruciare svariati circuiti positronici del suo cervello e cadendo in stasi e siccome ad andare in stasi è stato R. Preston il padrone di R. Preston dottor Humboldt è l'uomo colpevole di plagio se trasmetti questo al capitano e lo esorti ad affrontare subito il dottor Humboldt può darsi che riesca a strappare una confessione in tal caso spero che me lo dirai immediatamente lo farò di certo vuoi scusarmi amico Elia devo parlare in privato con il capitano figurati usa pure la sala delle riunioni è isolata vale non riuscì a combinare niente durante l'assenza di R. Daniel se ne stava in attesa a disagio cose importanti dipendevano dalla bontà della sua analisi ed era acutamente consapevole della propria mancanza di esperienza in fatto di robotica R. Daniel ritornò di lì a mezz'ora la mezz'ora più lunga di tutta la vita era inutile naturalmente cercare di determinare come fossero andate le cose dall'espressione impassibile dell'umanoide anche Balei si sforzava di rimanere impassibile sì R. Daniel domandò precisamente come tu hai detto amico Elia il dottor Humboldt ha confessato faceva assegnamento ha detto sul fatto che Sabbat cedesse e gli permettesse di godersi quest'ultimo trionfo la cosa è risolta e troverai il capitano molto ben disposto mi ha dato il permesso di dirti che ammira enormemente il tuo acume e sono convinto che a mia volta otterrò il suo favore per avergli suggerito te bene disse Balei con le ginocchia molli e la fronte madida di sudore ora che la sua conclusione si era rivelata esatta va perciosa fatte Daniel non mettermi mai più in un pasticcio del genere capito cercherò di non farlo amico Elia tutto dipenderà naturalmente dalla gravità della situazione dalla tua vicinanza e da alcuni altri fattori nel frattempo ho una domanda sì non era possibile supporre che il passaggio da una bugia a una verità fosse facile mentre era difficile il passaggio da una verità a una bugia e in tal caso il robot che è andato in stasi non sarebbe passato da una verità a una bugia ed essendo andato in stasi R. Preston non ne avremmo tratto la conclusione che il dottor Humboldt era innocente mentre il dottor Sabbat era colpevole sì R. Daniel era possibile ragionare in quel modo ma è l'altro ragionamento che si è rivelato esatto Humboldt ha confessato no? l'ha fatto ma essendo possibile ragionare in due direzioni come hai potuto amico Elia essere così rapido nello scegliere quella giusta per un attimo Balei contraste le labbra poi si rilassò sorrise perché R. Daniel mi sono basato sulle reazioni umane non sulla robotica conosco molto meglio gli esseri umani che i robot in altre parole avevo un'idea di quale fosse il matematico colpevole prima ancora di interrogare i robot una volta provocata in questi una reazione asimmetrica l'ho semplicemente interpretata in modo tale da far cadere la colpa sull'uomo che già ritenevo colpevole la reazione robotica è stata abbastanza vistosa da far crollare il reo la mia analisi del comportamento umano poteva non essere sufficiente a ottenere questo risultato sono curioso di conoscere questa analisi del comportamento umano perciosa fatte Daniel rifletti e non avrai bisogno di farmi domande c'è un altro punto di asimmetria in questa storia dell'immagine speculare oltre alle questioni del vero e del falso ed è l'età dei due matematici uno è molto anziano l'altro è giovanissimo sì certo e con questo? ti spiego posso immaginarmi un giovanotto tutto preso da un'idea improvvisa e rivoluzionaria consultare sull'argomento un anziano collega che ha sempre considerato fin da quando era studente una specie di semidio nel campo non mi immagino un vecchio invece ricco di onori e abituato ai trionfi che avendo avuto all'improvviso un'idea rivoluzionaria corre a consultarsi con il collega più giovane di secoli che non può non considerare una nullità o come diavolo si esprimerebbe uno spaziere inoltre se anche ne avesse avuto la possibilità ti pare che un giovane avrebbe rubato l'idea di un semidio reverito da tutti? è impensabile d'altra parte un vecchio consapevole del proprio declino non si lascerebbe sfuggire un'ultima occasione di brillare e partirebbe dal principio che un novellino può essere sfruttato senza tanti riguardi in breve non era concepibile che Sabat avesse rubato l'idea a Humboldt e tanto da un punto di vista che dall'altro il dottor Humboldt risultava colpevole R. Daniel ci pensò su a lungo poi tese la mano ora devo lasciarti amico Elia è stato bello rivederti spero che si presenti presto un'altra occasione Balei strinse con calore la mano del robot certo R. Daniel disse ma se non ti dispiace non tanto presto R. Daniel